Diara, si si, senti bene, buon su, check it, ah, si si, tutto è possibile, tanto è fattibile, basta decidere solamente che sta da prendere, dopodiché, tutto sta a te, a decidere da che parte vuoi stare, sai com'è, c'è tanto da fare, ma soprattutto per iniziare bisogna partecipare, scendere in piazza e ribellarti, è il tuo party, non metterti da parte, puoi partecipare, per cambiare, basta solamente vedere in che direzione vuoi andare, in questa città, Nichelino, c'è molto da fare, ma bisogna starci vicino, nel senso che si può organizzare e fare tanta roba che può piacere anche a te, non le solite robe che fanno schifo e le guardi e dici, ma questo che cazzo è, perché se siamo qui, in via dell'ivoluzione, Nichelino il posto è la nazione, per questo sentimi bene, che è Mauri B, a Nichelino sono nato e cresciuto e rimasto così, con l'hip hop sempre attaccato al cuore, per questo lo faccio ancora con amore, ma se si può cambiare, bisogna solamente iniziare, da qualche parte pure si dovrà fare, non stare a guardare la partita, esci fuori di casa, non è finita, prendi la tua vita in mano, è quella lì, fai come me, fai così, yeah, check one, two e questo è per Nichelino possibile, Mauri B, per Alessandro Arsolina, blow it up, boom!